Ah, giocare con sabbia, paletta e secchiello è da mocciosi! Volete che vi faccia vedere qualcosa di veramente fantasticoso? Il telefono è un prolungamento dell'orecchio, la televisione è un prolungamento dell'occhio, l'automobile è un prolungamento delle gambe. Ebbene, signori e signori, tra poco noi avremo un altro prolungamento che condizionerà tutta la nostra vita, ed è l'internet. Ebbene, signori e signori e signori. Grazie a tutti! Grazie a tutti!